Chiude in bellezza l'esposizione Incursioni Parallele, aperta il 29 luglio scorso alla Pinacoteca Foresiana. Il 4 novembre è stato presentato al pubblico il catalogo ufficiale della mostra, edito dalla casa editrice Tron e graficamente curato da Maurizio Lirussi. Volevamo in qualche modo raccogliere quello che è stato realizzato con questa mostra, che non è stata una semplice esposizione temporanea, ma che ha dato modo anche di ricercare alcune informazioni che sono emerse inedite, ad esempio abbiamo trovato delle lettere in merito ai quadri della Tamerice di Lloyd e del dipinto di Pietro Gori, che abbiamo pubblicato per la prima volta e che non erano mai state viste da nessuno, sono stati documenti trovati quest'anno per la prima volta. Quindi diciamo che è un catalogo che in qualche modo raccoglie tutte le schede delle opere, con degli approfondimenti che sono stati scritti insieme a una ragazza, Martina Longobardi, dell'Università della Sapienza, anche questo devo dire che è stato un punto a favore di questo progetto, perché abbiamo dato modo di collaborare con l'Università e con una giovane ricercatrice, e anche appunto di pubblicare dei documenti mai visti, più ci sono dei saggi, devo dire molto belli, un'introduzione meravigliosa scritta da Cristiana Collu, che è la direttrice appunto della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, è un mio saggio, uno di Giovanna Coltelli, l'altra curatrice, e un saggio del professor Battaglini appunto che raccontano un po' che cosa è successo quest'anno nella Foresiana nell'anno del suo 99esimo compleanno, perché quest'anno appunto la Foresiana compie 99 anni. 20 capolavori di artisti che hanno segnato la storia dell'arte tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, del calibro di Ciardo, Ciseri, Fattori, Gordigiani, Lloyd, Nomellini, Signorini, di cui rimane memoria di un catalogo ufficiale. Arriva purtroppo a fine mostra, ma ormai quasi dappertutto succede così, ormai i cataloghi diciamo, come si dice nel meraviglioso mondo dell'arte, le mostre passano ma i cataloghi rimangono, e quindi comunque è una importante documentazione che rimane proprio a testimonianza di questa mostra che è stata direi abbastanza importante per la Pinacoteca Foresiana e sono molto felice di aver collaborato e di averla curata insieme a Valentina Anselmi, perché secondo me abbiamo fatto un'operazione buona e giusta. Speriamo che queste collaborazioni possano proseguire, anzi io credo che proseguiranno, per quanto mi riguarda sono a disposizione perché, come sapete tutti, io sono elbana e quindi ci tengo molto e ci tengo anche molto che la Pinacoteca Foresiana abbia il giusto riconoscimento come museo e l'importanza della sua collezione. Questa mostra è stata fatta proprio perché si possa cominciare a capire l'importanza di questa grande collezione che Foresi ha donato alla città e all'Elba tutta. Ci sono molte opere importanti che hanno bisogno di essere valorizzate nel giusto modo e quindi sì, la Pinacoteca Foresiana spero proprio che abbia un giusto riconoscimento in questi suoi primi cento anni da quando è stata aperta.